Stiamo preparando il palamita, adesso inneschiamo il nostro bel calamaro. Prima cosa lo mettiamo. Con un colpello deve essere ben affidato. Calamari freschi. Stendiamo la parte interna. Vediamo le striscioline. Vediamo un pochino. Mettiamo Namo e mischiamo il nostro bel calamari. E' bello resistente perché è bello fresco, bisogna passare filo elastico e basta lo sono così, lo muovo in acqua e lo si ripone via. Alla? 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 Alla?